C'è un po' figlia di quello che era un po' successo anche a Torino, nel senso che per giocare ancora di più con una squadra come questa, che è una squadra in salute, se non sbaglio ha vinto 5 delle ultime 7 gare, cioè da quando è arrivato Kraft hanno completamente cambiato la faccia della loro stagione, bisogna avere una costanza che noi non siamo riusciti ad avere, siamo stati combattivi, abbiamo fatto anche tante cose giuste, però nel secondo tempo abbiamo preso troppi canestri facili, oltretutto su situazioni semplici nelle quali non sarebbe stato difficile opporre il corpo e la presenza fisica per provare a cambiare qualche traiettoria dei tiri di Kraft e soprattutto magari forzarlo anche ad usare la mano debole. In attacco, a differenza del primo tempo dove siamo stati anche parsimoniosi nel controllo delle palle perse, invece ne abbiamo fatte troppe e noi sapevamo che ci sarebbero saltati addosso sul terzo palleggio e che quindi sarebbe stato importante muoverla quella palla e fermarla il meno possibile, però poi un conto è dire, un conto è fare e soprattutto riuscire a farlo quando anche la presenza fisica degli avversari diventa diversa, quando i cambi sistematici sono diventati cambi fatti da Ogg. Ogg è un giocatore che fai fatica a battere anche con un playmaker, quindi lui è stato bravo a tenere due palleggi e te magari hai dovuto usare il terzo di palleggio e quel terzo palleggio spesso è diventato un giocatore degli avversari che è venuto a fare un aiuto ancora più profondo chiudendo la linea di penetrazione e anche la linea di scarico. Questa è un po' la sintesi secondo me, la partita era questa qua, sapevamo che dovevamo essere competitivi dal punto di vista fisico, energetico, al rimbalzo e anche che avremmo dovuto controllare di più le palle perse e direi che dal punto di vista energetico, al rimbalzo siamo stati presenti, abbiamo attaccato la loro area anche se era chiara intenzione da parte di entrambe le squadre, quella di togliere l'area agli avversari. Adesso io non so se i punti sono realmente questi, ma abbiamo fatto 48 punti dentro l'area degli avversari, che significa che quell'area l'abbiamo attaccata con costanza, il numero dei tiri da tre punti è stato molto basso, abbiamo tirato solo 14 volte, quindi questa è un po' la sintesi della partita. Però onestamente a lungo andare, forse anche la loro abitudine a giocare partite ravvicinate, maturata con l'esperienza della Coppa, ha fatto un po' la differenza, sono stati più lucidi di noi nella seconda parte della partita e questo ha determinato lo scarto finale. Non è che il nostro inizio ha viziato la partita, così come l'inizio della partita di Torino dove avevamo preso il comando della gara l'ha determinata e neanche l'inizio del terzo quarto ha viziato la partita, la partita è stata in grande equilibrio, in totale equilibrio. Alla fine però, ripeto, la loro abitudine forse ad avere, a giocare partite di questo tipo, anche maturata in un vissuto comune che ha portato, se non sbaglio, otto di questi giocatori due anni fa a fare una finale scudetto, quindi non è che si sta parlando di giocatori di basso livello. È chiaro che la classifica in questo momento per loro può ingannare un po', ma ripeto, da quando è arrivato Aaron Craft questi ne hanno vinte 5 delle ultime 7 e nelle 4 vittorie che avevano fatto avevano tenuto gli avversari sotto i 63 punti segnati. Questo significa che abbiamo giocato contro una squadra in grande salute. Noi ci siamo battuti sicuramente, abbiamo delle responsabilità anche nel fatto di aver prodotto tante palle perse nel corso della seconda metà della gara, però la costanza di rendimento non si impara in un giorno, la loro costanza di rendimento probabilmente è imparata in tre anni di vissuto comune, tre anni fatti di due finali scudetto, quindi ci sono giocatori che hanno fatto due finali scudetto e molti di questi qua tutti insieme due anni fa con la finale scudetto l'hanno giocata, queste non sono cose che devono passare inosservate, perché adesso sembra che improvvisamente abbiamo giocato contro gli sfiegati di turno, questi sono vice campioni d'Italia e con questa squadra due anni fa erano vice campioni d'Italia e questi giocatori sono giocatori che queste finali hanno fatte e sono arrivati fino a lì, quindi significa che questa abitudine a giocare certi momenti nelle gare è anche un po' insita in un gruppo che ha una profondità e un'abitudine a stare insieme e anche delle connessioni tecniche comuni che sono consolidate da tre anni di vissuto comune, questo non è è un gran dettaglio. Grazie!